Dal Vangelo secondo Luca Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode, tetrarca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetrarca dell'Iturea e della Traconitide, e Lisania, tetrarca dell'Abilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, come è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia. Voce di uno che grida nel deserto Preparate la via del Signore Raddrizzate i Suoi sentieri Ogni burrone sarà riempito Ogni monte e ogni colle sarà abbassato Le vie tortuose diverranno diritte E quelle impervie spianate Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio Pace e bene, carissimi amici Nella seconda domenica di Avvento, la liturgia della parola ci presenta una figura emblematica Colui che, per certi versi, raccorda l'Antico Testamento con il Nuovo Testamento Ci parla del precursore di Cristo, di Giovanni il Battista Se il brano che ascolteremo nella prima lettura, tratto dal libro del profeta Baruch Sviluppa un vero inno alla speranza Ecco che il brano del Vangelo lascia percepire l'imminenza della realizzazione di questa speranza Il profeta Baruch dice Deponio Gerusalemme la veste del lutto e dell'afflizione Rivestiti della gloria che ti viene da Dio per sempre Avvolgiti del manto della giustizia Sorgi, stai in piedi sull'altura e guarda verso oriente Dio ha deciso di spianare ogni alta montagna Di colmare le valli perché Israele proceda sicuro sotto la gloria di Dio Dio ricondurrà Israele con gioia alla luce della sua gloria A questa parola del profeta fa da eco quella del Vangelo Che ci presenta la missione di Giovanni Battista La voce di uno che grida nel deserto L'invito alla conversione si fonda proprio sull'imminente venuta del Messia Convertitevi, preparate la via del Signore Raddrizzate i Suoi sentieri Ogni burrone sarà riempito Ogni monte e ogni colle sarà abbassato Le vie tortuose diverranno ritte E quelle impervie spianate Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio Il grido di Giovanni Battista arriva fino a noi oggi Quell'invito alla conversione è anche per noi Siamo chiamati a preparare anche noi la strada al Signore che viene Appianando proprio le nostre incoerenze, le nostre scelte E rendendo piane le nostre contraddizioni Nelle trame dell'orgoglio e nelle pratiche di omissioni Nelle tentazioni del male Ma anche nella consapevolezza che il Signore verrà a liberarci Dobbiamo lavorare perché la strada sia pronta e libera al suo arrivo Il tempo di avvento, carissimi amici In questa prospettiva diventa veramente un tempo di grazia Un tempo propizio di rinnovamento spirituale Di rinascita e soprattutto un tempo opportuno Per rinsaldare i nostri passi nel percorso della fede Questo tempo forte ci persuada inoltre Nella consapevolezza di avere bisogno Di trovare o ritrovare la giusta sintonia con i valori Con le prospettive e i contenuti della nostra dottrina Ma soprattutto di accogliere una persona Gesù Cristo, Salvatore nostro, Salvatore del mondo La preghiera che l'Apostolo Paolo nella seconda lettura Rivolge ai filippesi Diventi anche la nostra reciproca preghiera Perché anche noi possiamo essere integri e irreprensibili Per il giorno di Cristo Maranatà, vieni Signore Gesù Pace e bene e buona domenica a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti